Grazie, grazie. Naturalmente grazie dell'invito, di questa opportunità in questo luogo che almeno a me mette soggezione già nella sua dimensione fisica. E grazie a Michele Ciliberto che mi ha rivolto questo invito a partecipare a questo appuntamento. Mi pare giusto premettere soltanto un'osservazione rapidissima, cioè che a differenza degli altri relatori che seguiranno, io davvero non posso definirmi uno studioso di questi temi. E dirlo a premessa non è solo un modo per giustificare un punto di vista che sarà inevitabilmente parziale, ma credo possa collegare alcune osservazioni che io cercherò di fare ad un'esperienza specifica e in particolare ad una categoria professionale che mi riguarda e che da un po' di tempo è in via di estinzione, che sono i funzionari politici o di partito. Peraltro direi una delle poche specie viventi la cui estinzione è accompagnata da un larghissimo apprezzamento di critica e di pubblico. Io vorrei iniziare con un brevissimo riferimento personale che dal mio punto di vista ha la sola utilità di aiutarmi ad entrare un po' nell'argomento, nel tema. E l'episodio è questo. Insomma, per i casi, per gli accidenti della vita, quando nel novembre del 1989 Achille Occhetto annunciò la svolta e il superamento del Partito Comunista Italiano, da qualche mese io ne dirigevo l'organizzazione giovanile. E la notizia ebbe l'impatto che voi sapete, che quelli un po' più adulti o anziani ricordano, per averlo vissuto personalmente, nei giorni successivi a quell'evento, io chiesi ad uno dei dirigenti di quel partito, tra i più colti, tra i più autorevoli, un colloquio e anche un consiglio su che cosa fare, se fosse giusto attraversare quel ponte oppure no. E lui, il dirigente in questione, di lì a pochi giorni avrebbe optato per il no, sarebbe divenuta una delle figure di riferimento, dello schieramento che si oppose alla scelta di Occhetto, ma non è questo il punto. Il punto fu che la sua risposta, in qualche modo, si concentrò più sul metodo che sulla sostanza. E mi disse più o meno questo, mi disse, guarda, fai, fate quello che ritenete più giusto, però tieni conto di una cosa soltanto, e cioè che un partito, qualunque partito, non cammina mai sulle gambe di un programma. Questa è una pia illusione. O dietro di sé ha una cultura che lo sostiene, oppure non regge, non reggerà l'urto dei fatti, l'urto della storia. Ora, le parole non sono esattamente queste, poi sono passati parecchi anni, però il termine urto, quello lo usò perché mi è rimasto abbastanza impresso. E io non credo fosse riferito alle tensioni interne, a quello o ad un futuro partito, aspetto che con gli anni ha finito con l'assorbire molte delle nostre energie. Io penso che si riferisse alla dimensione del conflitto e alla necessità di non lasciare mai una forza organizzata, un soggetto politico organizzato, in una condizione sospesa, in una sorta di terra di nessuno. Ecco, per lui, per il mio interlocutore, la premessa per evitare questo pericolo, forse in questo era anche condizionato, posso immaginare, supporre, da un solido impianto storicista, era un chiarimento di ruolo, funzione e identità di quel partito. Direi di qualunque partito. E allora sarà banale, ma insomma nel corso del tempo, degli anni che sono seguiti, l'episodio me lo sono portato addosso e mi è tornato alla mente spesso, forse perché passavano gli anni e la mia parte politica, ma non soltanto la mia parte politica, si muoveva esattamente nella direzione opposta. Con una rimozione, via via più evidente, persino rivendicata, delle ragioni culturali di un sistema politico che andava profondamente ripensato. Mentre alla crisi democratica e della rappresentanza che ha investito il Paese, che si è sviluppata nel corso del tempo fino ad assumere caratteristiche abbastanza profonde e strutturali nell'ultima stagione, a quella crisi si reagiva percorrendo delle strade diverse, che pare di poter dire sono almeno in parte anche l'oggetto del seminario di oggi. Ora tutto questo è avvenuto in un contesto, diciamo in un arco temporale, che è stato segnato secondo molti osservatori, molti analisti, molti commentatori, con un tratto sostanziale di egemonia da quello che chiameremo per pura rapidità di sintesi il pensiero della destra. In Wall Street, quel vecchio, ormai molto vecchio film di Oliver Stone, Michael Douglas, forse lo ricorderete, se la cavava dicendo che era tutta colpa dell'avidità. Anzi, in quel suo famoso monologo, davanti ad una platea di studenti, più che una colpa, lui considerava il termine, in quel caso depurato dai suoi trascorsi letterari, come la virtù dei forti, come l'espressione più, diciamo, esplicita e adeguata a descrivere lo spirito del tempo. Eravamo alla fine degli anni Ottanta, quindi molto lontani da mutui impazziti, banche al collasso ed una finanza ingorda con una economia reale piegata. I giovani con gli scatoloni della Lehman studiavano al college e la grande destra, in America e in Europa, dettava le sue regole. Meno Stato, governi deboli, i mercati si regolino da sé, viva i profitti miracolosi. E tutto sommato il cotè culturale non si discuteva e a chi chiedeva notizie della società, la risposta era la battuta beffarda e storica della signora Thatcher. Più o meno su quell'impianto, il pensiero della destra ha retto le sorti dell'Occidente e non solo per una trentina d'anni. Ha sgonfiato un paio di bolle, la più seria d'impatto nel 2000, ed è arrivata alla tempesta perfetta del 2008, quando sull'Europa è calato il buio. La crisi più grave del secolo, ci spiegano da qualche anno gli economisti. E non solo, io non sono un economista, ma insomma non solo per la durata e le dimensioni, ma perché ci viene detto è venuta meno una visione dello Stato, dell'economia, della persona o in qualche misura della sua dignità. Dovendo tradurre, si potrebbe dire che questa crisi ha disarmato la cultura, i fondamenti culturali di un ciclo intero della storia, ciclo a sua volta segnato da una ridistribuzione gigantesca di ricchezza e di potere e che ha trasferito il motore della crescita dal lavoro alla rendita, alimentando una diseguaglianza così profonda da risultare in alcune sue espressioni, in alcune sue manifestazioni, semplicemente immorale. Si potrebbe dire immorale al punto che la parte più ricca dentro le società del benessere, ma non solo, ha potuto smettere anche solo di incrociare gli occhi con la parte destinata a diventare sempre più povera. Ed è un punto, questo, su cui si potrebbero fare parecchi esempi, ma non c'è il tempo e soprattutto non è questa la sede. Bene, l'Italia, come sempre, dentro questo processo vi è entrata con un suo particolare profilo. Fosse solo per i tratti peculiari del nostro sistema politico, condannato ad una sorta di transizione perenne, per i tratti peculiari di una destra che, a differenza della grande destra che ho appena richiamato, ha avuto poche somiglianze con i modelli che sono prevalsi altrove. Ora, in termini sintetici, noi in questo stesso arco di tempo, dico noi per dire noi il Paese, gli italiani, in questo stesso arco di tempo abbiamo conosciuto il collasso della cosiddetta Prima Repubblica, un logoramento della religione civile dell'antifascismo e la fatica enorme, in primo luogo nel campo progressista, ma non solo, a reagire alla crisi delle forme politiche tradizionali, quelle che nel bene e nel male avevano sorretto l'impianto costituzionale e repubblicano. E da lì si è avviato quello che potremmo definire il viaggio tormentato delle sigle, con denominazioni destinate a sorgere e a tramontare con una velocità quasi irrazionale perché sempre più disancorata da processi che giustificassero una rincorsa così forsennata a nuovi simboli senza identità o, diciamo, con identità molto fragili e a volte inconsistenti. Per certi versi, mi permetto di dirlo, era l'avverarsi della profezia fatta qualche anno prima sul divano di casa sua dal mio vecchio intellettuale comunista o, se volete, con parole diverse, era il cedere all'idea che quel vuoto di pensiero potesse essere colmato da uno spirito volitivo o anche da una certa astrattezza giacobbina. Ma, insomma, è accaduto così che una particolare retorica del nuovo e dell'oltre ci hanno accompagnato lungo questa stagione molto lunga trovando di volta in volta declinazione in una possibile uscita dalla crisi della politica per via regolamentare o istituzionale. In fondo è più o meno da vent'anni, poco meno, che noi discutiamo di leggi elettorali senza soluzione di continuità e stando alla cronaca di questi ultimi giorni, se volete persino di questa mattina, si potrebbe dire con una battuta che il meglio deve ancora venire. Dunque, da un lato una via di uscita procedurale e dall'altro, e questo ha investito soprattutto il mio campo, la scelta di delegare il compito enorme di ricucire lo strappo tra cittadini e democrazia alle sole forme della partecipazione. E in questo caso il pensiero corre subito all'impatto rilevante che ha avuto lo strumento delle primarie, in particolare nell'esperienza del centro-sinistra, con una modifica di stili e linguaggi, ma soprattutto con una sorta di pentimento circa la natura e la funzione della leadership. È un discorso che andrebbe approfondito, che andrebbe articolato, ma io non vorrei su questo soffermarmi troppo a lungo. Dico solo che questa inclinazione carismatica e plebiscitaria, e rubo questa sintesi a Michele Ciliberto che sul tema ha ragionato a fondo in un saggio molto utile e interessante di alcuni anni fa, questa inclinazione non solo non ha colmato, ma ha finito con l'approfondire lo scarto tra il Paese reale e la sua rappresentanza, mentre è mancata, soprattutto a sinistra, una fotografia, un'analisi più rigorosa della società italiana ed europea. E questa analisi purtroppo è venuta meno nel cuore di mutamenti destinati a modificare la radice e gli affluenti del consenso elettorale, come noi abbiamo verificato ancora nell'ultimo passaggio significativo, che sono state le elezioni politiche del febbraio di quest'anno. Insomma, delle due l'una, o la politica e i partiti per uscire, come dicevano di voler fare, come dicevamo di voler fare dai vecchi confini del Novecento, affrontavano il nodo della loro nuova identità politica e culturale, oppure aggredivano, avrebbero dovuto aggredire con coraggio le ragioni del loro declino sociale. Ma per fare questo avrebbero dovuto rispondere alla domanda su quali interessi, quali forze reali si candidavano a promuovere e a rappresentare. Possiamo anche dire così, o ti mettevi nella condizione, fatta la fotografia di Massima che io ho provato ad abbozzare, insomma, o ti mettevi nella condizione di spiegare chi eri, o eri in grado di chiarire, uscendo dall'alibi generico del nuovo e dell'oltre, per che cosa ti battevi e quali forze reali ti candidavi a rappresentare. Quello che non si poteva fare o che non conveniva fare era rinunciare ad entrambe le cose e in particolare teorizzare, come pure si è fatto, l'urgenza di una politica non solo post-ideologica, ma post-identitaria, che è una definizione ricorrente nel dibattito politico, soprattutto nel campo del centro-sinistra e della quale io francamente non sono mai riuscito a comprendere il significato. A quel punto l'alternativa è diventata quel riflesso programmatico, di cui in qualche modo mi aveva parlato sempre il mio vecchio intellettuale comunista sul divano di casa, quella cultura programmista che in questi 15 anni ha funzionato spesso come una supplenza del deficit di cultura politica che si andava accumulando. E la dimensione stessa dei valori è finita confinata, più o meno consapevolmente, nel recinto della retorica, ma con un saldo che si è rivelato, a mio modo di vedere, tutto sommato perdente. Perché nel nome della concretezza, nel nome dell'emergenza e di una politica costretta a misurarsi quasi soltanto con un presente senza respiro e senza prospettiva, noi abbiamo finito un po' tutti indistintamente, con alcune eccezioni certamente che andrebbero riconosciute, ma insomma la tendenza di massima generale è stata quella di cedere campo ad un discorso pubblico che ha finito col separare sempre di più politica e cultura e che in fondo ha separato anche la politica, azzardo una definizione forse in parte impropria, dal suo contenuto morale. E almeno in parte il conflitto tra tecnica e politica è venuto da qui, da questo disarmo critico che ha finito col privare la politica delle motivazioni che a lungo l'avevano sostenuta e sorretta. Lo dico così, se i problemi delle persone si riducono al calcolo più o meno preciso del loro interesse materiale, può capitare che i tecnici questa chiave di senso la interpretino meglio. E però a quel punto la politica per riscoprire il suo ruolo deve porsi la domanda di fondo, deve tornare a porsi la domanda di fondo, che poi è la stessa da prima di noi, e cioè quanto deve essere giusta la società che noi ci candidiamo a rappresentare. E questo significa chiedersi come quella società distribuisce le cose alle quali diamo valore, il reddito, la ricchezza, i doveri, i diritti, il potere, le occasioni, è in cima a tutto la responsabilità. Ora, quel pensiero della destra che ho citato all'inizio, a tutto questo, nel corso degli anni, ha dato una sua risposta, prima di tutto sul piano culturale, dopo che all'incirca, a metà sulla dimensione della tempistica ci possono essere delle valutazioni diverse, ma più o meno, dopo che a metà degli anni settanta è entrato in crisi il modello keynesiano, per ragioni che conoscete, si è aperta la via per una storica rivincita di quelle teorie che per qualche decennio erano rimaste confinate, erano esistite, non erano innovazioni, erano rimaste confinate nei corsi marginali delle principali facoltà di economia sulle due sponde dell'Atlantico, ma in particolare negli Stati Uniti. Io non ne parlo perché non è questa la sede, poi non ne avrei la competenza, ho detto che non sono economista, ma l'ambizione di quella rivincita, di quella storica rivincita, è stata tale da sovrapporre, forse per la prima volta in modo così dichiarato, un pensiero economico con una scienza esatta e in quanto tale definitiva. E comunque al di là di questo si è trattato di un calcolo sulla modernità che è riuscito a modificare, è riuscito in un'operazione molto ambiziosa, anche molto difficile se ci pensiamo, un calcolo sulla modernità che è riuscito a modificare nella coscienza di centinaia di milioni di persone qualcosa di profondo e di strategico, come era stato, almeno nella seconda metà del Novecento, il giudizio morale sulla diseguaglianza. Cioè la destra, quel pensiero, è riuscito a trasformare qualcosa che per decenni era stato un disvalore ed era stato percepito come tale nella chiave di una nuova stagione di benessere, di crescita, di occupazione, di sicurezza, di coesione sociale. Dal loro punto di vista, da quel punto di vista è un capolavoro di strategia. Per le culture riformiste direi un colpo abbastanza decisivo alla loro concezione dello Stato, del Governo e della società. Parliamo di fenomeni che hanno investito l'Occidente, non solo noi, anche se nel nostro caso si sono manifestati contratti particolari, legati almeno in parte alle cose che conoscete molto bene, al ritardo della nostra unificazione, alla fragilità del nostro organismo statuale, ad uno spirito pubblico non particolarmente solido e a quel tratto di precarietà del nostro sistema politico che ho provato ad accennare qualche minuto fa. L'esito nel nostro caso è stato appunto l'avvio di una transizione che non si è ancora conclusa, transizione nei soggetti e nelle culture politiche, transizione negli assetti istituzionali, transizione nella ricerca di una diversa modalità della forma partito, della partecipazione democratica, del rapporto nuovo e originale tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, del legame tra soggetti, culture, potere e in fondo, ma forse è la premessa di tutto, del carattere della sovranità. Ora, tra gli effetti di questo ritardo del Paese, a me pare utile richiamarne sostanzialmente due. Il primo è una personalizzazione della politica dai tratti quasi parossistici. Forse su questo aspetto specifico ha pesato un po' come un macinio anche l'anomalia della nostra vicenda storica. Lo dico solo come un esempio, ma due settimane fa l'Ipsia, la socialdemocrazia tedesca, ha celebrato solennemente i 150 anni dalla nascita di quel movimento politico, di quel partito. Ora, considerando tutte le differenze, noi siamo un Paese dove il più grande partito del campo progressista, al netto della confluenza, al suo interno di diverse filiere, di diverse tradizioni e forze esistite nel passato, se tutto va bene, tra qualche anno celebrerà, festeggerà il suo decimo anniversario. E voi capite che c'è differenza. Ma oltre a questo, da diversi anni oramai, e dico una cosa assai scontata, la quasi totalità delle sigle, dei movimenti rappresentati nelle istituzioni, non sono soltanto identificabili, ma dipendono in una modalità di tipo quasi patologico dalla sorte personale del loro leader. Il centrodestra, in questo senso, è stato pioniere del modello, però il fenomeno ha assunto un profilo generalizzato, al punto che le sigle, con una certa frequenza, hanno finito col dipendere dalla parabola soggettiva, individuale, della persona, del nome, che quasi sempre contrassegnava il relativo simbolo sulla scheda elettorale. E questo a volte, permettetemi solo questo inciso, generando evoluzioni in parte o del tutto imprevedibili e persino contingenti. Anche qui me la cavo con un esempio, che però mi pare significativo di una tendenza più generale. Un esempio di cronaca, non ha nulla di specifico rispetto alla riflessione più alta e colta che dobbiamo cercare di fare in questa sede. Ma insomma, accade che una domenica sera Milena Gabanelli dedica un'inchiesta ad Antonio Di Pietro e accade che nelle 48 ore successive quel gruppo parlamentare si riduce sensibilmente nel numero, sino in poche settimane, in pochi mesi, quasi a scomparire dalla scena politica. È un esempio, ma non è un caso isolato e naturalmente non è stato solo il programma televisivo, l'inchiesta di una giornalista che ha determinato un'implosione di questo genere, ma può essere stato l'elemento detonatore alla fine di un percorso di precarietà, però riflette in qualche misura la natura di questi processi. Se volete possiamo prenderla anche un po' più alla lontana, basta andare su Google e scaricare la scheda delle elezioni politiche del 1987 e poi quella della quota proporzionale delle elezioni del 27 marzo del 1994. Sono passati sette anni, sette anni sono molti, ma non sono un'eternità. Eppure mettendo a confronto a paragone quelle due schede, non un solo simbolo delle elezioni del 1987 si ritrova sulla scheda del 1994, forse sì, forse è quello della Lega, non ricordo, ma questa è una cosa che solitamente accade dopo un evento traumatico, una guerra civile, una rivoluzione. Noi per fortuna abbiamo conosciuto una rivoluzione dolce per certi versi referendari, ma il punto non è lì, il punto è nel che da un tempo discretamente lungo per una democrazia come la nostra, noi siamo alle prese con una precarietà del nostro sistema politico e questa è una condizione che influisce inevitabilmente sulla precarietà del nostro assetto istituzionale. Il punto è che un sistema politico fragile e precario non rende la democrazia più solida, ma all'opposto ne accentua la vulnerabilità e la espone alla carica aggressiva di chi punta a ridurne l'autorevolezza, la stabilità. Ma dicevo di due effetti del nostro ritardo storico che mi pare sono quelli un po' più legati al tema di questa giornata. Il secondo è più legato, se volete, al mio campo e però ha molto a che fare con la fatica a definire una diversa identità delle culture politiche ed è l'equivoco penetrato anche tra noi sul concetto di conflitto, in particolare l'idea di una società pacificata come leva di una democrazia complessivamente più solida. Ora siccome a mio parere resta ragionevole pensare che sia più vero il contrario, temo che questa convenzione da cui è derivato un racconto della società e delle sue dinamiche sociali e culturali abbia prodotto delle conseguenze non banali, a cominciare dal fatto che non esiste un punto di vista in base al quale l'operaio e il manager o l'azionista della fabbrica hanno necessariamente prospettive equivalenti. Lo stesso vale per l'apprendista e l'imprenditore di se stesso, che magari ha iniziato esattamente nello stesso modo, ma insomma una cosa è riconoscere l'ovvio e potrei ricordare che il valore sociale dell'impresa o la necessità di reggere il tessuto della manifattura diffusa, della sua creatività come un patrimonio essenziale del nostro sistema economico e produttivo, tutto questo la sinistra italiana lo ha riconosciuto molti decenni fa. Dicevo una cosa è l'ovvio, altra è condurre questo riconoscimento a una lettura che rimuove le origini e le differenze di condizioni sociali, di reddito, di aspettative che restano solo in parte sovrapponibili. È un dettaglio questo, io penso di no, credo di no, perché al di là dell'esempio è qualcosa che influisce sulla capacità di un soggetto politico di raccontare se stesso attraverso le parti della società che intende emancipare e promuovere. Il punto è che se per anni non si affronta questo nodo e si rinvia quell'analisi di fondo del Paese, delle sue dinamiche, ecco poi non ci si può stupire se la trama del consenso non corrisponde all'idea che ci sia fatta della società e che non sempre riflette la società per ciò che davvero è diventata. Se posso aprire qui una parentesi più legata all'attualità, direi che il voto di febbraio è una dimostrazione abbastanza evidente del pericolo che si corre. In queste ultime elezioni, come sapete, il PD ha perduto più di 3 milioni di voti rispetto al 2008, il Popolo della Libertà ne ha persi circa 6 ed una terza formazione che si presentava per la prima volta ne ha guadagnati all'incirca 8. Sommando le due coalizioni principali sono entrati in mobilità oltre 10 milioni di elettori, fenomeno che in sé ha qualcosa di originale, almeno in Italia dove storicamente i tassi della mobilità elettorale non erano stati così significativi, ma anche se sta diventando più fisiologico che in passato è stato, però questo intendo dire, almeno numericamente, il più forte shock elettorale della storia recente. Diverso anche dal passaggio che pure fu traumatico tra prima e seconda Repubblica, quindi in quel triennio di fuoco 92-94, quando si votò per le elezioni politiche in due occasioni a due anni di distanza, nel 1992 e poi nel marzo del 94. Ma dietro a quei dati c'è una realtà che spiega come da molto tempo il bacino elettorale del centro-sinistra sia un bacino sempre più ristretto e poco espansivo e neppure la crisi, esasperando gli animi, ha modificato quel dato. Lo dico così, da anni le ricerche su questo punto offrono la stessa fotografia. Tre grandi aree nel voto per quella parte politica sono sovradimensionate, il lavoro dipendente, in prevalenza quello pubblico, i pensionati e le categorie ad alto contenuto di formazione. Il che non è un caso, perché quella è la base sociale che ha le sue radici nella frontiera più avanzata del welfare italiano. Quello che matura tra la metà, la fine, direi, degli anni Sessanta e la fine del decennio successivo. Cioè un pezzo dell'Italia che nell'arco di una stagione che fu segnata, ora voi siete molto giovani quelli delle file ultime, ma è una stagione che fu segnata da conflitti violenti di cui conoscete il significato, la profondità e anche da traguardi essenziali però sotto il profilo sociale e civile. Un pezzo dell'Italia che nell'arco di quella stagione ha sottratto una parte larga del lavoro operaio e anche intellettuale alle incertezze del mercato. Tutto questo ha formato, ha contribuito a formare una coscienza e consolidato anche una fedeltà sul piano politico. Il paradosso è che oggi una parte di quel blocco sociale, avremmo usato una definizione di questo genere qualche anno fa, una parte di quel blocco sociale fatica a trovare una coerenza tra l'immagine che ha di sé e la condizione del Paese. Cioè sente di avere guidato battaglie cruciali per la civiltà di tutti e non riesce a immaginare come quelle conquiste possono essere descritte agli occhi di un'altra parte del Paese, che poi è la più svantaggiata, come un privilegio o peggio come un tratto corporativo. Ora, perché è importante cogliere questo aspetto? Perché a questo punto la separazione non è più tra vecchie ideologie, ma tra nuove diseguaglianze ed è qualcosa che ha a che fare con la tenuta e il tracciato del processo democratico, anche in un Paese come il nostro. Da una parte quelli che hanno costruito una propria identità e dall'altra è un popolo molto articolato, molto composito, che va dal lavoratore autonomo al piccolo proprietario al professionista, con loro le partite IVA, il precariato diffuso, quel modello di capitalismo personale che è un po' una peculiarità della nostra esperienza storica. E ne è nata una divisione del Paese anche sul fronte elettorale, con il ruolo dello Stato assurdo a simbolo di questa distanza. Per una parte minoritaria lo Stato è rimasto lo strumento a difesa di legalità, diritti della maturazione civile, per l'altra un nemico che ha usato la leva fiscale per violare la libertà dell'impresa e della proprietà. E nelle curve di questi umori sono proliferati i comitati d'affari che hanno sfruttato gli appalti del pubblico in una dinamica della corruzione talvolta elevata a sistema, mentre sullo sfondo a pagare il prezzo di tutto questo erano categorie di lavoratori onesti o imprenditori anche molto coraggiosi, ma abbandonati sulla frontiera della competizione internazionale. Ecco, la Seconda Repubblica, termine che non andrebbe mai utilizzato, ma insomma si è fondata su questo bipolarismo, prima sociale che politico, in qualche modo anche sull'opposizione artificiosamente alimentata da alcuni, tra questi due popoli, e ne è venuta una combinazione dello scontro che non ha consentito mai al centro-sinistra di conquistare una maggioranza stabile per governare, mentre sull'altro fronte si è fatto molto per cristallizzare la situazione. Non è bastata neppure l'onda dell'indignazione contro l'aggressione, all'equilibrio tra i poteri dello Stato per rompere quegli involucri. Ecco perché servirebbe in qualche modo disincagliare lo scontro tra il centro-destra e il centro-sinistra dalla configurazione che ha avuto in questi decenni, perché è un duello che sacrifica il Paese. Il tema è che tenere insieme, a tenere insieme le diverse parti di una società così diversa da prima non può essere una rivendicazione solo programmatica. Serve un disegno più alto, serve una cultura che ad esempio contesti la riduzione del valore sociale del lavoro che è avanzata nel tempo. Servirebbe ripartire dalla Costituzione, dalla potenza dell'articolo 1 e dalla rivoluzione, perché poi di questo si trattò, dalla vera e propria rivoluzione che ispira quell'incredibile secondo coma dell'articolo 3, coma elaborato dalla penna e dall'incrocio tra un socialista riformista come Lelio Basso e la raffinatezza di un giurista come Massimo Severo Giannini, lì dove per la prima volta si affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che separano ogni individuo dall'idea che ha di sé della propria vita. Il punto è che per fare tutto questo e molto di più servono i partiti, o comunque serve un partito, almeno al campo del riformismo, sapendo che un partito non è un sindacato. Ecco, ritorno sempre al divano del mio intellettuale comunista, sono due istituzioni distinte, entrambe necessarie ma distinte, per cui sbaglia il sindacato che si fa partito, ma anche di più sbaglia il partito che si trasforma nel sindacato dei suoi elettori, pensando così di fidelizzarli al meglio. Il punto è come la politica riesce a tenere insieme interessi distanti e per farlo, oggi come in passato, io credo debba offrire un traguardo di libertà a chi vive condizioni diverse e nutre attese differenti. È un sentiero difficile che va imboccato sapendo che il flusso da qualche decennio però si muove nel senso opposto, però bisogna tentare e vale la pena tentare anche per contestare uno spirito del tempo dove, lasciate che lo dica in questo modo, i poveri non fanno più paura e si punta semplicemente ad escluderli perché non contano più, cosa che non era mai accaduta in questi termini nella storia che a noi è più vicina. Però anche questa è la conseguenza di una democrazia compassionevole che sostituisce la pietà all'uelfa e la benevolenza ai diritti. Col particolare, come è stato scritto, che la beneficenza non ha bisogno della democrazia, mentre in democrazia la trama dei valori che tiene assieme una comunità ha bisogno di qualcosa di più dell'elemosina, cioè ha bisogno di una sostanza della democrazia, che poi è la differenza tra un rattoppo al disagio, al malessere, alla sofferenza e la frontiera della partecipazione. Allora per tornare al punto e chiudere, il conflitto da sempre di questa sostanza è l'alimento, mentre sull'annientamento del conflitto, sulla sua rimozione e sulla solutizzazione dello scontro inteso come l'annullamento dell'altro, la sua marginalità, la sua esclusione, si fonda ogni politica di dominio. Il punto è che lontano dall'essere pacificate, le società contemporanee che negano il riconflitto sono attraversate a loro volta da una fortissima carica di violenza e allora non si tratta di rifondare una nuova utopia sulle macerie delle vecchie, ma di ricollocare nella storia un pensiero della giustizia sociale e della procedura per la sua affermazione. Io mi chiedo se questa non sia anche la via per esprimere una critica verso l'individualismo egoistico che ha alimentato una cultura piuttosto diffusa e il punto naturalmente non è rimuovere la dimensione individuale che è giustamente riducibile, ma dar vita ad una cultura fondata davvero sui diritti della persona, una cultura moderna, dei diritti civili, politici, sociali, dei cittadini, di tutti i cittadini e anche in questo però il ruolo dei partiti resta essenziale e dice come senza di essi non può esservi una democrazia matura. Il che ci riporta al principio e al problema non risolto, e vengo all'ultimo punto ma è molto rapido, il principio non è problema non risolto di una crisi della rappresentanza politica e sociale con una separazione sempre più evidente tra chi governa e chi viene governato. Diciamo che siamo alle prese con una crisi della democrazia nel suo complesso, di quella costituzionale, anche per l'involuzione populista di questi anni e di quella politica, per l'indebolimento delle regole della democrazia costituzionale. Del resto i poteri lasciati senza limiti e controlli tendono a concentrarsi e a tramutarsi in poteri non regolati, ma solo un rafforzamento della democrazia costituzionale con nuove garanzie dei diritti politici e della democrazia rappresentativa consente di salvaguardare sia l'una che l'altra cosa. E qui forse si dovrebbe fare almeno riferimento all'attualità di queste settimane e al confronto acceso, come sempre, sulla riforma della Costituzione, in particolare sulla forma di Stato e di Governo, che è oggetto del confronto parlamentare e non solo. Io mi limito ad una sola ultima osservazione su questo punto, che però è chiaramente oggetto anche dell'attenzione e delle riflessioni di oggi, una sola osservazione che è questa. È un fatto che il modello presidenziale e i sistemi elettorali di tipo maggioritario sono sempre più diffusi nel mondo e la rappresentanza politica tende sempre di più a identificarsi con la persona del capo dello Stato o del Governo. Sono soluzioni democratiche, legittime, che conoscono quasi ovunque una solida architettura istituzionale, cioè un equilibrio retto dai famosi pesi e contrappesi. In Italia noi siamo arrivati a questo confronto attraverso una stagione tutt'altro che brillante, in particolare la legge elettorale con la nomina dei parlamentari assegnato un punto di non ritorno, a cui si somma l'anomalia di un premio di maggioranza assolutamente abnorme. Ma al netto di tutto questo noi siamo alle prese in questi anni col venir meno di una separazione e distinzione tra rappresentanti tra Stato e società. Ora, secondo questa visione dei tratti apertamente populisti, la democrazia si risolverebbe nella scelta di una maggioranza di governo e con essa del suo capo, identificati con l'espressione diretta della volontà e della sovranità del popolo. Chi sostiene questa lettura ha la declina nei termini di una democrazia governante, cioè una forma di democrazia più diretta e partecipata. In realtà questo approccio rischia di apparire una deformazione in senso polemicitario della democrazia rappresentativa, con una declinazione di questo pensiero attraverso la riduzione dei partiti a comitati elettorali del leader, il rapporto non mediato tra leader e popolo attraverso mezzi di comunicazione, l'idea dell'onnipotenza della maggioranza, la gestione dell'ordinaria amministrazione all'insegna di una emergenza perenne, su questo dovremmo riflettere a lungo sulla vicenda degli ultimi 10-15 anni, la critica all'equilibrio costituzionale dei poteri. Ma se è così è un'idea che produce una tentazione antica, con il capo di una maggioranza legittimata dal voto e come tale giustificata ad agire in opposizione al governo delle leggi, in opposizione al governo delle leggi e dunque con un'insofferenza verso la legalità, i controlli concepiti come intralci non legittimi all'azione del governo. Però è proprio questa concezione che fu rinnegata dalla nostra Costituzione dopo il fascismo. E allora il pericolo è di inseguire un'idea antirappresentativa secondo cui maggioranza e capo incarnano la volontà degli elettori e che si risolve poi non per caso con la negazione dell'articolo 67 della Costituzione, secondo cui, come sapete, ogni parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. E a questo principio viene sostituita la mistica dell'identificazione della volontà dei rappresentanti e del loro capo con la sovranità popolare. E il risultato, mi permetto di dire, è anche nel linguaggio con cui in questi anni si sono liquidate delle fisiologiche dinamiche parlamentari della democrazia. E invece quelle fisiologiche dinamiche parlamentari sono state tradotte di volta in volta in un attentato alla volontà del popolo, in un tradimento degli elettori, attentato, tradimento, ribaltone, golpe politico, attentato, tradimento, golpe. È un linguaggio che condiziona anche la percezione che si ha del processo democratico. Ma è stato l'insieme di queste tendenze che ha favorito un mutamento del nostro sistema. Perché quando il populismo che identifica capo e popolo è proposto come connotato istituzionale e come fonte di legittimazione del potere, si apre la strada a quella che Aristotele chiama demagogia, cioè quel sistema in cui sovrana è la massa, non la legge, e i molti sono sovrani non come singoli, ma nella loro totalità. Ecco perché, persino al di là dell'esito tecnico della riforma di cui si discute, sarebbe doveroso fare di questo confronto sull'assetto delle nostre istituzioni, dunque la forma dello Stato, la forma del Governo, la legge elettorale, la legge di applicazione dell'articolo 49 sui partiti politici, le forme del loro finanziamento pubblico, la riforma della partecipazione democratica. Sarebbe giusto fare di tutto questo un'occasione unica e molto preziosa per un processo costituente della nostra democrazia che è logorata da un ventennio di transizioni incompiute. E questo dovrebbe passare da un confronto pubblico su come rigenerare una democrazia che oggi è messa alle corde, dal risultato deludente delle sue prestazioni, l'idea di una democrazia inutile perché incapace a risolvere i problemi, e da una crisi che ha l'impatto, le dimensioni e la durata che ricordavo all'inizio. È una prova che riguarda noi, la mia parte, ma più in generale il Paese, e che riguarda l'Europa che è messa dinanzi ad un passaggio altrettanto cruciale per il suo destino, quello che il Presidente Hollande ha descritto qualche settimana fa in un discorso per molti versi storico, se commisurato alla tradizione repubblicana francese, alla tradizione storica di quel Paese, di quella nazione. Per tante ragioni è l'intera costruzione politica europea che va ripensata, e questo intreccio tra una costituente italiana e una costituente europea che rende così ricco di stimoli, di suggestioni e di opportunità anche il passaggio storico che abbiamo davanti, un passaggio fondamentale nelle regole, nelle istituzioni, nella visione dell'Europa, nella necessità di non lasciare la politica confinata, come purtroppo io credo sia accaduto in casa nostra negli ultimi 15-20 anni, ad una sua inesorabile solitudine. Da questo punto di vista partirebbe un'altra riflessione che meriterebbe ben altro approfondimento, mentre io ho certamente esaurito il mio tempo e credo anche la vostra cortesia della quale vi ringrazio.